Briatore, allora lei ha scritto che gli untori veri sono quelli arrivati in Sardegna con gli aerei privati che se ne sono fottuti di distanziamento e mascherine. Briatore ieri invece ha detto che c'è stato un attacco politico e mediatico ai ricchi e alle discoteche di destra. Quindi gli hanno mandato gli untori nella discoteca, le foto dove la gente assembrata si fa i selfie senza mascherina e senza distanziamento sono dei falsi? Non lo so, tu hai capito questo, Belpietro, che sono le discoteche di destra, tu hai capito Briatore? Io non lo so se ci siano, siccome non frequento discoteche, non so se ci siano discoteche di destra, di sinistra, di centro oppure discoteche grilline. So che il Covid si distribuisce, da quello che ho capito, equamente, a destra e a sinistra. Lo prende un leader politico di destra, ma lo ha preso anche un leader politico di sinistra. Quindi non credo che faccia delle discriminazioni. E soprattutto lo prende chi non mette le mascherine e non rispetta il distanziamento sociale, no? Diciamo che questo sarebbe la base. Questo mi sembra evidente, però confesso, non credo neanche che, ho sentito tante cose, ho sentito chi diceva viaggia in prima classe il Covid e non viaggia in altro modo, no, viaggia ovunque. Si può dire, si può dire, prende i barconi, prende qualsiasi cosa. Sì.